Ma ti pare che cazzo... No! Cosa no? Ti pare che scrivi sugli altri fogli che ci fa la sua parte E non è che rischi sul libro di Greco? Sì, io c'ho parole, sul quaderno di giù mi pare anche comunque bello Una S è abbastanza grande, mi raccomando Poi dall'altra parte un no, penso Ma va! Bravo, hai azzeccato il monosillabo E dall'altra parte dobbiamo che ci va? Forse... C'è ci va qualcosa? Oh, l'ha detto, ha detto blu Perché è l'unica che ho trovato? Ah, ma sta registrando! Che bravo! Salve a tutti ragazzi! Cazzo, bella! Ma che così non sono pronta! Bella a tutti ragazzi e ben ritornati qui sul mio canale incredibile E perché io ho detto bella a tutti non si sa! Non sei Fabi J Ma chi è Fabi J ma veramente Fabi J con osso? No infatti, comunque non sbagliamo troppo! Bentornati come dicevamo prima sul mio canale con questo nuovo video E come avete detto dal titolo siamo più fondamentale Uniti oggi per le grazie al cristianesimo E anche al buddismo E anche al buddismo Quindi siamo qui con un aimai Io no Voi? Io a volte 5, 4, 3, 2, 1 Perché? Ho un big smile Ragazzi, in discoteca Vabbè dai, in discoteca che io non ho fatto Vabbè, quello sia Vabbè, quello sia Sì, è che ci ho pensato Però non è una domanda Non è una domanda Non è una domanda Alfa di Uber raga Quindi dove hai una famiglia? Passate dal canale di Nox e risparmierete i suoi effetti sonori Ciao a tutti Ehm Trattino basso Leo Trattino basso 21 Trattino basso Ci chiede Ahimai Ciao Fede La mia domanda è No come hai mai Ciao Fede Ma che cosa vuol dire? Hai mai pensato di cambiare squadra? Cioè di non ti farei più Roma Ciao e continua così Sei un grande Questa frase credo che vada bene con tutti Perché anch'io ti farei Roma Per lui credo No Io non tifo Ah ok Io no No, ma non ha senso come domanda Cioè è come Hai mai pensato di Vabbè non è la stessa No io invece no Perché comunque non è un Ripeto Secondo me se tu sei veramente tifoso Non è che cambi squadra Anche se recentemente si è scoperto il caso più sgamer Che era tifoso della Roma da piccolo Lo sapete? Sì questo era tifoso della Roma da piccolo Ha detto in un suo video E poi è diventato tifoso del Napoli Alice Proietti ci chiede Hai mai passato la notte sveglio fino a vedere l'alba? Chi non l'ha fatto Chi non l'ha fatto? Vabbè tanto la vesti per tutti Quindi sì Sì un'idea Ciao Alice un bacione Vurata mia che gli hai mandato un bacione Ah proprio non l'ha SESPO1999 ci chiede Hai mai desiderato di essere un altro youtuber? Se sì chi? Bella regà Bella tio Surry Perché mi piace molto come personalità e mi sta un batto simpatico Anima Perché è il mio titolo in assoluto Gabbo Gabbo Ahimai Lui dice sì Ahimai Sì Eh beh Che culo Vi ricordo che nella settimana prossima torneranno anche le fuck bastarde E quindi di conseguenza tornerò anche a salutarvi Comunque se non lo siete già iscrivetevi al canale e passate qui sotto Nooo Passate qui sotto in descrizione per i miei social e per i suoi social E' vero ci metterà solo il mio canale Niente regà noi ci mettiamo i prossimi video Bella Bella Ciao